Prossime elezioni di Forio, ci sarà ancora Nicola Nicolella, però era importante dirlo perché qualcuno forse pensava che tu ti facessi da parte. Sì, no, io un momento di scoramento, devo dire, l'ho avuto, anche perché penso che nella politica ho dato tanto, ho combattuto tanto per cercare di modificare, di cambiare il modo di fare la politica. E gente comune non è altro che questo, la prerogativa di quel movimento era proprio di cambiare la politica, di partire dal basso. Posso dirti Nicola, in effetti tu sei stato sempre tra i più eletti, sia con Franco Reggine che con Del Deo, hai sempre partecipato all'amministrazione vincente, però dopo poco ti sei fatto da parte, sei passato all'opposizione. Questa è un po' la tua caratteristica. Beh, allora a dire il vero, sì è vero, forse non è che sono stato, tra virgolette, sempre nella coalizione vincente. Non lo dico per umiltà, ma questi sono i dati, sono i numeri. Penso che ho fatto vincere Franco Reggine una volta, ho fatto vincere anche Francesco Del Deo un'altra volta. Ma al di là di tutto questo, non è che mi sono fatto da parte, attenzione, perché la storia ce lo insegna, sono gli atti amministrativi che lo possono provare. Io sono stato messo da parte, che è cosa ben diversa, perché il mio modo di fare la politica, che è al servizio della gente, rispettare i programmi che si fanno, credo che sia una prerogativa di un'amministrazione seria. E invece, quando paradossalmente è successo, cosa che era una promessa elettorale, quella di creare sviluppo economico del paese attraverso la realizzazione del porto, quando ho messo mano al porto, bene, Francesco Del Deo, Franco Reggine, prima mi ha detto vai via, non esiste, cioè che tu possa mettere mano al porto. Con Francesco Del Deo, bene, ci sono state le elezioni, già dall'inizio probabilmente Francesco Del Deo si serviva e gli è servito Nicola Nicolella per vincere le elezioni, non soltanto in termini numerici, perché il sottoscritto da solo ha preso il 24, circa il 25% dei suoi voti, no, perché in realtà io non potevo essere l'antagonista di Francesco Del Deo. Prossime elezioni, con chi ti presenti? Se io oggi pensassi di poter allearmi con Tizio o con Caio, che sono stati già sindaci di Forio, farei un errore gravissimo. Io quello che ho il desiderio di fare, ma questo lo chiederò ai cittadini al momento opportuno, se vogliono Nicolella Nicola sindaco di Forio, altrimenti tranquillamente io posso starmene anche a casa. La mia attività è fare l'avvocato, lo faccio dedicandomi tantissimo tempo, non ho bisogno di fare la politica per un problema economico, ma voglio fare la politica seriamente, soltanto ed esclusivamente nell'interesse del Paese, perché l'ho sempre fatto, ma con alcuni soggetti, anche alleandomi con alcuni soggetti, tutto questo non è stato possibile e non sarà possibile, per cui preferisco farlo da solo.